Questo video avrei voluto registrarlo e postarlo molto ma molto prima, già questa mattina perché ho letto tutti i vostri messaggi sia degli interisti che dei napoletani però non ho potuto perché lavorando adesso mi sono liberato da poco e quindi posso finalmente parlare di questa partita che ha praticamente fatto indiavolare i tifosi napoletani io ho postato ieri sera il video del post partita di Napoli-Inter 3-0 per l'Inter però volevo entrare più nel merito per quanto riguarda gli episodi accaduti durante la partita però intanto fatevi salutare, un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che vi ringrazia moltissimo per i like che avete digitato nei video precedenti e per le iscrizioni sono molto contento quindi se attivate anche la campanellina almeno quando posto un altro video non ve ne perdete neanche uno se volete altrimenti va bene anche così quindi io come ripeto non ho nulla contro i tifosi interisti, non ho nulla contro i tifosi napoletani io non ho nulla contro nessuno, cerco di essere obiettivo ed onesto ad ogni partita che guardo certo quando gioco alla Roma magari posso essere più tifoso che sportivo, ci può stare poi magari a freddo riesco ad essere più realistico no? e quindi ieri magari col 3-0 dell'Inter potevo essere contento perché la Roma ha raggiunto in classifica il Napoli e quindi stiamo in zona Champions anche noi della Roma però guardando poi la partita in presa diretta ho notato degli episodi un po' dubbi vogliamo dire così? Dubbi? perché ragazzi se commento le partite devo essere anche onesto devo anche condividere con voi quello che guardo no? poi posso sbagliare per carità senza problemi posso fare 1, 2, 3 passi indietro chi mi conosce lo sa che io quando dico una frase o una parola è la verità assolutamente posso sbagliarmi e questo mio commentare questi episodi che hanno fatto indignare i tifosi del Napoli hanno scatenato le ire di alcuni tifosi interisti io però come ho detto all'inizio senza nulla togliere alla grandissima partita dell'Inter ragazzi ma che ve lo devo dire io che l'Inter sta dominando il campionato assolutamente però devo essere onesto e quindi avevo intravisto un fallo a centrocampo di Lautaro sullo Botka e l'ho detto, l'ho detto, non me ne vogliono i tifosi interisti ecco sto anche balbettando perché mi dispiace perché alcuni sono di vecchia data dell'Inter però ragazzi c'è stato e infatti voglio andare ad argomentare con le valutazioni di alcuni ex arbitri quindi non è Enrico Caffarelli che ve lo dice ma nella fattispecie andiamo a leggere quello che ha detto Graziano Cesari da Sport Mediaset allora in occasione di due episodi chiave un possibile fallo di Lautaro allora al minuto 43 Lautaro conquista un pallone in possesso di Anghissà ma subisce l'attacco di Lobotka queste sono le parole di Cesari per tenere il vantaggio nerazzurro l'argentino trattiene l'avversario quindi Lautaro trattiene Lobotka poi dopo 21 secondi Cialanoglu segna l'1-0 per Cesari Massa pensa di avere tutto sotto controllo ma non vede il braccio sinistro di Lautaro che cinge l'anca di Lobotka e soprattutto si perde il momento nel quale l'attaccante frana sul tallone dell'avversario il moviolista sentenzia che ci sono due errori dell'arbitro Massa che non vede il fallo e del VAR Marini che non interviene ad aiutarlo quindi queste sono le frasi di Graziano Cesari che confermano quello che avevo detto io in presa diretta ragazzi me lo ripeto non vi offendete al 58esimo con l'Inter sempre avanti di un gol Osimen ha un buon pallone in aria dopo un controllo a seguire ma finisce a terra dopo un contatto con Acerbi poco sopra il tendine d'Achille per Cesari Massa cerca di vedere l'azione con attenzione anche abbassandosi per controllare meglio il possesso del pallone è del nigeriano poi c'è l'ancata di Acerbi e infine il contatto basso anche qui secondo l'ex arbitro doveva esserci la revisione del VAR per me è calcio di rigore il giudizio finale di Cesari quindi per Cesari era fallo di Lautaro sullo botca e anche rigore per il Napoli su fallo di Acerbi per Osimen ma andiamo a vedere adesso invece che cosa ha detto Bergonzi un altro ex arbitro e mogliolista l'ex arbitro ha commentato quanto avvenuto nel corso della partita Napoli-Inter il primo gol dei Nerazzurri sarebbe da annullare sentite cosa ha detto Bergonzi eh Onzi 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 vabbè ha stupitaggine da giornata brutta prestazione arbitrale di massa in Napoli-Inter a tal proposito Mauro Bergonzi ex arbitro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport parlando del contatto Lautaro-Lobotca da cui poi è nato il primo gol dell'Inter dice Bergonzi passano 20 secondi dal momento in cui il fallo e l'Inter è sempre in possesso quindi il VAR poteva intervenire dice se massa non se ne fosse accorto accorto poteva intervenire benissimo il VAR cosa stiamo vedendo un'evidentissima trattenuta di Lautaro sullo Botca è un placcaggio e l'arbitro doveva fischiare il giustissimo fallo perché non lo chiama perché sta guardando altro come si vede dalle immagini grave errore suo ma anche del VAR perché avrebbe potuto e dovuto intervenire ha riferito l'ex arbitro che ha duramente criticato la prestazione di massa non c'è dubbio che il vantaggio dell'Inter abbia duramente inficiato sulla prestazione del Napoli se l'arbitro fosse intervenuto in maniera tempestiva probabilmente il risultato finale sarebbe stato diverso ragazzi queste sono le dichiarazioni di Bergonzi e di Cesari due ex arbitri famosissimi e adesso sono moviolisti quindi non fanno altro che confermare ciò che avevo notato io in presa diretta in partita quindi se si offendono i tifosi interisti io ho anche detto che l'Inter ha giocato benissimo ma come gioca bene dall'inizio di campionato ad oggi è un rullo compressore a Lautaro che segna un gol a partita a Turam che è un giovane molto promettente che sarà uno dei migliori calciatori in assoluto della serie A se continua così a centrocampo ha dei ha dei trattorini ha dei bulldozer anche se sono piccoletti ma frattesi Barella sono due dei migliori centrocampisti insieme a Cialanoglu Cialanoglu ragazzi avete visto che che bomba che ha tirato ieri anche se era stata viziata da un fallo la sua rete perciò io sono sincero l'Inter vincerà quasi certamente il campionato però bisogna dire quello che è successo ragazzi e i tifosi napoletani ovviamente sono indignati però se andiamo a vedere anche i commenti ci sono anche alcuni tifosi interisti che hanno ammesso appunto quello che hanno hanno dichiarato Bergonzi e Cesari che l'Inter è stata un pochettino avvantaggiata se andate a vedere nei commenti del mio video precedenti da queste situazioni magari vinceva ugualmente senza questa questa questo aiuto che vogliamo chiamarlo così aiutino quindi alcuni interessi sono stati obiettivi per quanto riguarda appunto la la dinamica dei 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 fatti i tifosi invece napoletani sono su tutte le furie perché oltre ad essere stato sfortunato in Napoli che poi sfortunato il portiere fa parte della squadra quindi Sommer ha parato l'impossibile ieri è stato fenomenale anche la traversa di Politano e alcune altre situazioni che magari potevano cambiare il corso della gara però ciò non toglie che l'Inter ieri ha effettuato una grandissima prestazione però i napoletani De Laurentiis Mazzarri sono su tutte le furie addirittura De Laurentiis si è lamentato sotto al tunnel degli spogliatori con parole pesanti perché si è sentito proprio denigrato da questo atteggiamento di massa che per alcuni addirittura fa scatenare qualche pensiero negativo e non vi dico altro perché magari potrei potrei andare incontro a situazioni spiacevoli però basta leggere i commenti dei miei video precedenti e potete capire di cosa sto parlando ragazzi quindi non non me ne volete tifosi interisti tifosi napoletari che dir si voglia vi ho portato le testimonianze di due ex grandi arbitri e di due moviolisti che adesso la fanno da padrone ragazzi io vi voglio bene a tutti quanti però ovviamente sono della Roma forza Roma quando gioca la Roma magari sono un po' un po' più di parte in questo caso credo di essere stato sportivo ed onesto ciao da Enrico Gaffarelli